Signore Gesù Cristo, vedendo tutto ciò che fai nella nostra vita e soprattutto per la protezione che ci assicura, all'inizio di questa settimana possiamo solo dirti grazie. Veniamo con fede come il paralitico del Vangelo di questa mattina. Perdona tutti i nostri peccati e guariscici da tutte le paralisi che ci affliggono. Vogliamo sperimentare la tua mano potente in tutto ciò che faremo durante questa settimana. A te solo la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti.